E ragazzi, come va? Io sono Fereniki E io sono Stef, che stai giocando Roblox E siamo tornati nel nostro tre mappe in uno Questa volta inizieremo da Fashion Frenzy Che è una mappa che ci hanno chiesto tantissimissimo E' vero, tu ti sei già vestita? Sì, sì, così Tanto, non lo so, ho fatto un vestito un po' strano Ok, allora Non so neanche io cosa ho messo, perché ho detto adesso facciamo l'intro Quindi non è che posso partecipare al round Quindi, cosa ti sei messo? Eh, niente Ti sei messo dal... No, lì non puoi comprare Ah, ok, scusami, scusami E da questa invece? Allora, qui penso che ci siano i vestiti da maschio E altri accessori Lì giù i vestiti da femmina e qui le facce Queste ali sono perfette per Stef Ma come faccio a prendere le cose? Devi cliccare, cliccare sull'oggetto e te lo mette Ah, molto più comodo di quanto pensassi Mi hai copiato le ali? No Mi hai copiato le ali? No, non ti ho copiato proprio nulla Mi hai copiato Eh, non ho fatto un tempo a mettermi nulla però Welcome around to the Fashion Frenzy Show Con le cosette in e celesti le ali poi spogliate Sì, ma è più figo di disegnai? Sì, cosa ho detto? Di cosa? Di cosa è più figo? Design it Ok Non lo so, non la conosco No, ma parto io? Oh mio Dio Con che eleganza? Aspetta, aspetta, 5 Ti ho dato 5 stelle Ma mi davi 10? O è massimo 5? No, è massimo 5 Ah, ok Grazie, allora Ti ho dato 5 perché secondo me Sì? Ho un suo perché con queste codicine azzurre Vero? Queste ali Vediamo questo Questo? Ma camminano tutti così anche se sei maschio? Allora, guarda, solo per la camminata ti do una stellina Mi piace Io ne ho dato 3 Non mi piace molto No, è troppo È un po' strano Facciamo proprio Cioè, le presenti è quella trasmissione? Sì? Dove fanno gli sti Tocca te, tocca te, tocca te Guarda che bello Oh, eh 5 stelle Ti dicevo Quelli che giudicano i vestiti degli altri in modo serissimo Ok Le trasmissioni Quindi facciamo quello Sì, vedo che i tuoi fiori rispecchiano con la tua codetta Il colore dei miei occhi Che ricorda l'arcobaleno che cade verso il basso No No, non ci siamo No, non mi piace Uno Le ali col nero, amico Eh, ho scegli bianco, scegli nero Quindi non è che puoi mischiare Le cuffie e l'orologio con le ali d'angelo No, 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 no Ciao, ciao bello Guarda, torna da dove sei venuto Eh, vabbè Non ballare Non voglio fare più le mosse Ce l'hai qua Non ce ne siamo accorti Lei è molto bellina Lei sì Lei è stata molto brava Però ho tre stelle perché devo vincere io Guarda, io ti do un quattro Perché sono onesto con i voti E poi mi ha copiato la faccia Quindi tre Risultati In quanti si vince? Come funziona? Oh, sono arrivata al velo terzo No, però ha vinto questa Era la più brutta No, mi piace Non mi piace Non mi piace Io gli ho dato un quattro Che era bello alto Anche l'altro ha dato quattro Ci sta, ci sta, ci sta Sei arrivata terza Purtroppo Steph Dov'è? Quinto Ah, vabbè Io ti ho dato un dieci solo Cioè un cinque solo io Quindi tra tutti gli altri Ho preso solo cinque stelline Esatto Cioè mi hanno dato tutti uno Esatto Però adesso ci possiamo preparare Come si deve Dato che siamo prontissimi Intermezzo Guarda che bel locale Uh, ma è proprio bella Sta mappa comunque È bellissima È ben fatta Che fai? Ah, mi servi qualcosa Vorrei Vorrei un succo Guarda, qua c'è soltanto Una bottiglia Sbrillucicante Che non so cosa sia Va bene anche quello Qualsiasi cosa sia Grazie Anche se è succo di cammello Sì, va bene Va bene No, è succo di Di non so se sa che cosa Vabbè, vabbè Non essere simpatica Quando non sei Sei pronto? Prontissimo A fare un bellissimo match Sono andato pronto 3, 2, 1 3, 2, 1 Let's go Allora, vediamo prima cosa c'è Decido, bisà, prima i vestiti E poi vedo come acconciarmi Ma qua c'è la roba da maschio Bello questo vestito Sì, 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 sì Per ora tengo questo Allora, pettinatura Pettinatura, pettinatura Così come starei Eh, non è male Non è male Al suo perché Allora, no Però preferisco tipo In questo stile qua Molto Final Fantasy Come tolgo un oggetto? Ah, non lo so Quello Mi chiedi Mi domandi Ah, sono poi vestiti da maschio Ok, ho trovato come si fa Ok, ok Ho trovato come si tolgono le cose Quando ti serve Chiedi pure Con questa faccina qua Potrei voler questa Ah, sì, lì Sì, quello stranissimo Ok Sto facendo un personaggio Stile Final Fantasy Perché ho voglia di giocare A Final Fantasy In questo momento Ma dobbiamo registrare È che ce l'abbiamo nella Play Però ancora non lo stiamo giocando Perché siamo registrando i video Esatto Allora, io mi vesto un po' dark Così, mi piace Un look super dark Allora, adesso cosa mi manca? Qua cosa c'è di bello per me? Non sono del tutto soddisfatto Devo essere sincera Allora, io ho fatto una cosa un po' strana Perché tendo a fare tutte cose carine Quindi ho fatto un look super dark Ma parto sempre subito io Vai, oh è bello, bello No, ci sta Cinque Allora A te sempre cinque Faccio anche un balletto Guarda Poi incrocio Oh yes Ridacchio un po' E me ne vado E poi concludo con una balletto finale Per tornare a casa Bravo Oh, subito io Guardami Facciamo subito una mossa bellissima Ok Ho fatto un look super dark Fai le braccia incrociate Ah, non lo so fare Qual è? È cross arms tipo Ma non ce l'ho, non ce l'ho Allora ce le abbiamo diverse Sì, sì, ce le abbiamo diverse Peccato, peccato Ci stava bene col tuo look, capito? Sì, lo so Però ho saltato No No, no, no Sempre vestita dal mare Ma poi con le lenti Oh, vabbè Bellina Semplice ma carina Tre Sì, ci sta Ci sta Perché è semplice e carino Quindi un tre ci sta Poi non si facendo nessuna mossa Quindi si vede che è un po' inesperta Diferenza di Steph e Feriniti Vabbè ormai noi Che giocano da anni a questa mappa Già la seconda sfilata Avevamo capito tutto Che poi ho notato Perché c'è una vasca con gli squali Non l'ho ancora capito No, allora Dopo con questi Guarda, cioè Amico Cioè le ali le ho sfruttate meglio io Mi dispiace Sto per tirar fuori il pranzo Che ancora non ho mangiato Un commento terribile Facciamo la colazione Potresti fare davvero il giudice Di tipo Di quelle trasmissioni di moda E te lo dico Sono così cattivi uguale Allora Tutti le ali nere No No, no Non mi piace Spero che questo outfit L'hai pensato mentre ero in bagno Perché non c'è altra spiegazione Uno anche a te caro Carina l'idea Ma secondo me Non è riuscita benissimo Esatto Quindi andiamo Tre Tre anch'io Sì Perché la faccia ci sta male Secondo me dovevo sceglierne un altro Ci sta malissimo No, sì, sì, sì Però era molto bellina l'idea Molto originale E poi un po' troppi movimenti Qua un po' più elegante Per favore No, vabbè Era super allegra Ci stava con questo Momento Vediamo Dai Secondo me vinci No, non ce la farò mai Ce la fai Dai, secondi e terzi noi E vince qualcosa Ma ti sembra Siete seri Cioè, state scherzando È il più brutto È il più brutto in assoluto E voi l'avete messo primo Tredici di voto Cioè, praticamente Noi abbiamo vinto Con i nostri voti, eh Eh, mi sa Ma la gente non ci vota Direttamente, allora Stanno FK E non ti danno neanche una stellina Perché se io ho sette E ne ho cinque Da parte tua Gli altri matematicamente Come possono avermi dato Solo due Stanno fermi E non li votano È molto probabile Vabbè, perché non avete capito niente Qui di moda Imbroglioni Non sapete fare nulla Esatto Abbiamo deciso una cosa Non è tre mappe in uno Ma due mappe in uno Perché questa ci piace troppo Vogliamo continuare No, è troppo divertente Allora, il tema è Crazy Face Quindi mi raccomando Fai qualcosa di molto stravagante Di molto strano Ok Allora, da cosa mi vesto Vediamo un po' Ho qualche idea per ora Sì Sì, 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 sì No, pensiamo prima alla faccia Poi penso al resto Eh, sì, sì, hai ragione Hai ragione Hai ragione Allora Crazy Face Quindi devo essere proprio pazzo Ok, questi fanno il caso mio E li voglio combinare con questo Perché sono triste di esserlo Esattamente, sì Ok Poi, come cappelli avevo questi Che stai facendo? Io non trovo una faccia abbastanza strana Quale ti sei messo? È meglio se non te lo dico No, è una brutta È meglio se non mi vedi oggi Ok, ok Va bene Accetto, accetto quello che dici Perché probabilmente Tu metti Fai qualcosa di stravagante E io lo sto facendo E mi hai preso la lettera Come sempre Però un po' troppo Secondo me È proprio qualcosa Che andrebbe chiuso in galera Solo perché è vestito così Capito? Ma no Ma no Ok, io sono pronto Di già È già finito Guardami Immaginavo che avessi scelto la faccia che piange Lo sapevo Tutta la vita che avresti scelto quello Allora Lo sapevo Allora, 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 allora Allora Potrebbe essere questo Ma comunque è pieno di oggetti bellissimi Ogni volta sono diversi E quindi sono troppo, troppo belli Ed eccomi Ciao belli Ma perché quelle mani stranissime? Ciao È terribile È terribile Come state oggi? Mamma mia Arrivederci Io me ne vado Io me ne vado È ingeritante Chi c'è? Ok Ma siete tutti uguali No, però era meglio quello di Steph Il mio è più bello Due, due, due Non hai saputo abbinare bene i vestiti Con la proboscide Con i capelli, capito? Esatto Non sei stato Poi sei vestito da donna E' vestito da uomo Non ho capito Non ho capito cosa ha per il quattro L'unica cosa crazy Sei proprio tu In pieno Allora Oh mamma Ok, questo Per essere crazy Merita un quattro No, benissimo Geniale Geniale Cioè, devo essere sincero Un po' dagli schemi Poi mi vedrai Sembra il fratello gemello di quello che c'era prima Ti do una stella e te ne vai pure a casa Io ne ho date due È un po' strano Non capisco il corpo rispetto alla faccia Rispetto a tutto il resto C'è la proboscide con il robot Eh no, non capisco Ti dico la verità Non capisco Torna a casa Ciao Ma quando tocca a te oggi? Non lo so E questa non si è dietente vestita Anzi no Non voglio neanche darle uno E invece gli ho dato uno Non si può togliere Eccoti Ho fatto un alieno Cosa c'è di meglio di crazy face? Cosa c'è di meglio? Cosa c'è di meglio? Io ti do un 5 Grazie Però Dai, no È bellissimo Crazy face Io sono stata l'unica originale Che non ha messo quegli stupidi occhiali E ha fatto l'alieno Ok Purtroppo i vestiti non sono molto adatti Ma non ce n'erano altri E mi sono dovuta adeguare Ok Sono un alieno appena arrivato sulla terra Ma questo sembra un fashion blogger No, no A me non piaci No, no Mi spiace Siccome ti che vince Non lo so Perché ho notato che vincono quelli che mettono il colpo super muscoloso A priori a quello che fai Ah, forse piacciono i muscoli qua Eh, ci sta, ci sta, dai Ci sta È il momento della verità Chi ha vinto? Chi se la porta a casa? Ma neanche tra i primi tre Comunque stiamo a ragione che avrebbe vinto questo Vabbè, vabbè Gli altri due però non li capisco Soprattutto il terzo No, secondo me ci sta Mi piace molto di più del primo Dove siamo finiti? Quindi si Cioè, solo con i nostri voti Nessuno Vedi che non votano Ci ha dato nemmeno uno Ce ne dobbiamo andare Chiudi sta mappa Basta, basta Siete solo degli invidiosi Non votate Imbroglioni Sono invidiosi Invidiosi invidiano che noi siamo più bravi di voi Ma dimite non votando E quindi ci fate perdere apposta Disgrazie Ma che senso ha se non votate Ma non lo so Disgrazi attivo La seconda mappa E' l'ultima mappa di questo video Dato che siamo rimasti troppo nell'altra E Roblox Run O qualcosa del genere come nome Praticamente dobbiamo correre E saltare gli ostacoli Opla Aiuto Wow Ma è di così Non me l'aspettavo Wow Ok Ma saltiamo tantissimo Sto prendendo il ritmo giusto Non avevo capito Che dovessimo correre così In questa video Ho perso il potere Oh peccato C'era un poterino da poter prendere Io non l'ho preso Sono arrivato al traguardo Ma non so in che modo Ho capito Io sono arrivato ottavo Ah io seconda Ottimo 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 Perché sono storta Al contrario Ah mi devo girare Vedi Ho perso anche i capelli Dalla troppa velocità Se Ferinichi Se Ferinichi arriva a seconda E Steph ultimo Vuol dire che il gioco è rotto No 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 è per forza Vuol dire che sei uno scarsone Non hai capito No 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 Ci siamo Vai Oh finalmente è normale Quindi si corre veloci E si salta Ora si che si ragiona Vediamo chi vince adesso mia cara No Ma io non ho capito come si prendono i poteri Manco io non riesco a prenderli Allora ce l'avevo Guarda Vedi Ok Devi saltare e colpire la scatola perfetta Ah ok Difficilissimo Preso Ho usato il magnete Oh ma che cosa hai fatto Perché no No Toglimelo Doveva essere per correre di più Invece ti sei schiantata Perché non ti fa saltare Ricordati che il raggio non ti fa saltare Ok Ricordatelo Cioè mi sono incastrata in un muro tutta la vita Non è giusto Mi piace Ma ti sembra che io prendo un potere che mi rallenta e mi fa perdere Ma sai che forse è colpa mia che ho usato la calamita e ti ho vato incollare Non lo so perché io in quel momento ho usato un potere Oh bisogna anche scalare Che figo Vai 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 Veloci veloci Velocità Ok Io salto sulla testa degli altri Fulmine che non so cosa fa Ok Continua Steph E adesso Continua che sei primo È diventato bellissimo questo gioco Ma stai zitto Uh Uh quanto corro Aiuto dai dovrebbe essere quasi finita Non devo sbagliare adesso Vi ho le calcagne Ecco qua ho sbagliato Io penso di essere dietro di te No dai non sono riuscito a superarti Questo è perché c'è stato solo quel potere Se non ci fosse stato quel potere che non capivo Avrei vinto Comunque primi secondi Ottimo aspetta Chi è primo Gira Chi è primo Vieni a dirmi faccia qualcosa adesso Vieni qua Vieni qua che litighiamo Ti uccido Ti uccido Chi è che è più alto Ti uccido Sono al numero uno Comunque è incredibile che entri Ci sono un sacco di player E finiamo subito primi Cioè non so giocare nessuno a sta mappa Anche secondo me Allora dai direi di fermarci così per questo video Speriamo che vi sia piaciuto il Due mappe in uno Dato che non è un tre mappe in uno Però Era partito per esserlo Fashion friends è davvero carino Nel sondaggio vi chiediamo se volete rivedere Entrambe le mappe Perché sono abbastanza simpatiche E si potrebbero riportare in futuro Questo quando è normal e bellino Allo gravity davvero non mi piaceva Perché Salti troppo Non ha più senso gli ostacoli Ci sono modalità un po' diverse Però dai ci stavano Secondo me Ci stavano Ci stavano Ci stavano Quindi ci fermiamo così Speriamo che il video vi sia piaciuto E ci fermiamo Ragazzi Giorgio 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 E se ne è una buona volta che vedete il nostro video Potete considerarvi Di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 Ciao